Ciao ragazze, eccoci qua nella mia cucina per preparare una colazione ma anche merenda che è veramente ottima, soprattutto ad esempio se fate sport, spesso mi chiedete una cosa diciamo che dia energia però non troppo calorica quindi quello che vi faccio vedere adesso è una colazione sana o anche una merenda che di pomeriggio si può fare sana, che dà energia, che sazia proprio antifame e anche anticellulite è una merenda ottima se fate sport perché veramente vi dà tanta tanta energia però senza tante calorie ed è completamente sana, quindi adesso la devo preparare, vi faccio vedere come si fa il porridge io veramente ladro troppo e spero tanto che piaccia anche a voi questo è il mio secondo canale, il mio canale di cucina, quindi iscrivetevi anche a questo canale se non l'avete ancora fatto, tante ricettine sane e leggere allora io utilizzo questo qua che è il latte di soia infatti adesso vi faccio vedere praticamente il porridge si chiama questo qua ed è, io lo faccio però ovviamente completamente sano e naturale e vegano quindi utilizzo questo qua che è il latte di soia e quello che abbiamo comprato a Lidl di cui abbiamo fatto il video io e mia sorella e questo veramente mi piace tantissimo si può utilizzare qualsiasi latte vegetale infatti anche io spesso utilizzo quello di riso, quello di nocciole però questo qua di soia è più proteico quindi dato che oggi comunque devo fare sport in questo periodo sto facendo un'alimentazione un po' più proteica cerco di preferire sempre questo qua che ha più proteine di tutti gli altri vegetali, latte di riso, latte di nocciola, eccetera questo è quello più proteico in una pentolina ci vado a mettere i fiocchi di avena io a me piace farlo con i fiocchi di avena un po' più grandi e la crusca un po' più piccolina questi li compriamo alla Coop e costano veramente poco si trovano in qualsiasi supermercato mi piacciono molto e questi qua invece sono la crusca da avena questa l'ho comprata al Todis anche questa l'ho pagata pochissimo comunque sono cose da supermercato che si trovano un po' ovunque io faccio in questo modo in una tazzina vado a mettere così tipo una metà i fiocchi di avena grandi poi prendo la crusca che mi piace tantissimo infatti molto spesso lo faccio anche solo con la crusca questa fa andare tantissimo in bagno ma pure l'avena infatti vi ho detto dà un senso di sazietà questa merenda dà un senso di sazietà e fa andare molto in bagno quindi regola molto l'intestino eccola qua vedete una tazzina se non avete la crusca non avete l'avena potete mettere una tazzina di solo quello che avete insomma e poi ci vado a mettere il latte di riso uno due e tre quindi praticamente la proporzione è uno a tre accendo sul fuoco ecco qua faccio andare all'inizio a fiamma bassa potreste metterci anche l'acqua ad esempio io però preferisco farlo così appunto per avere una colazione più completa per avere anche una fonte ovviamente proteica e anche l'avena in sé per sé comunque è un alimento molto proteico quando inizi a fare così abbasso la fiamma mescolo un pochino e faccio cuocere qualche altro minuto quasi pronto corrono pochi minuti adesso è fatto e io ci metto un po' di cacao questo è buonissimo dell'arcenire biologico ho comprato mia mamma all'ushan e anzi a breve vi faremo anche il video vlog cosa compriamo all'ushan per la gioia di mia mamma no vabbè perché vi è piaciuto tanto quello là l'idol e quindi vi faremo anche questo ci metto un cucchiaino di cacao allora questo qua si può mangiare anche così cioè bianco io molto spesso lo mangio anche bianco dipende dai vostri gusti ad esempio potreste anche metterci la frutta oppure mangiarlo bianco semplice se lo volete dolcificare mettete un po' di sciroppo d'accia un po' di zucco di canna insomma a me piace così poi ognuno ha i suoi gusti così diventa buonissimo e quindi ma adesso io lo faccio ancora più carico ed energizzante che a me piace tanto metterci tante cosine sopra non so che l'aspetto non è dei migliori però vi assicuro che è buonissimo quando poi lo assaggerete vi renderete conto che è veramente veramente buono io lo odoro e lo mangio molto spesso devo dire però faccio varie varianti quindi magari vi farò sicuramente qualche altro video io poi ci metto un po' di cosine sopra per farlo più carino ad esempio ci metto un po' di crema di nocciole che adoro troppo questa qua è tipo il burro di nocciole però è una versione super sana perché appunto dietetica cioè questo è composto da solo nocciole e l'adoro troppo costa tanto io lo compro nel negozio biologico però veramente ne vale la pena è tutta tutta nocciole cioè non ci sono grassi e zuccheri aggiunti e fa benissimo perché voi sapete io sono un amante della frutta secca perché fanno tanto tanto bene quindi le mangio ogni giorno sia questa così sia proprio la frutta quindi ovviamente la posso solo straconsigliare e quindi ne prendo un po' e lo vado a versare qui su così non esagero però comunque dà veramente molto molto sapore questo ecco il cucchiaino non si butta oddio è troppo buono poi ci metto un po' di granella di nocciole appunto per completare oppure ci avrei potuto mettere le mandone insomma qualsiasi frutta secca e poi ci metto un po' di questi qua che questi sono dei cereali buonissimi che faccio io anche questi sono a base di avena quindi sono un po' morbidi un po' croccantini se vi piace posso fare il video anche di questi qua è facilissimo farli in casa ci metto un po' di questi qua sono troppo troppo buoni tutti croccantini cereali questi sono quelli là che abbiamo ricevuto nel pacco vi ricordate e questi pure sono buoni questi sono anche cereali integrali al cacao sono buonissimi e super croccanti ok ecco qua la mia colazioncina il mio porridge spero che vi sia piaciuto questo video mi raccomando se lo provate fatemelo sapere e fatemi sapere insomma se fate anche altre varianti io veramente ne faccio tantissime e vi mando un bacio grande mi raccomando iscrivetevi anche a questo canale ciao